Per tutti coloro che per motivi personali o di lavoro hanno dovuto lasciare la propria terra di origine, la nostalgia può essere un'emozione comune e travolgente. È un sentimento che si descrive come un intenso desiderio di casa accompagnato da un mix di emozioni ambivalenti, ad esempio gioia e tristezza legate al ricordo di momenti lontani. Ci sono evidenze che mettono in luce gli effetti negativi della nostalgia, ad esempio alcuni dati mostrano quanto la nostalgia possa favorire un blocco nel processo di adattamento o addirittura alcuni l'associano all'insorgenza della depressione. In realtà la nostalgia può avere anche una funzione positiva e protettiva, ad esempio ci riconnette a esperienze passate, può rinforzare le relazioni con persone lontane e ci dà la misura di quello che per noi è importante. La nostalgia come tutte le emozioni non dovrebbe essere considerata una debolezza, ma un punto di forza, un'opportunità per conoscere meglio noi stessi. Se anche tu senti nostalgia e vuoi capirci di più, contatta un professionista. Noi del Centro Moses possiamo trovare la strada giusta per te.